Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video, anche oggi nuovo video recensione. Oggi voglio parlare ancora di una collaborazione che è nata tramite Instagram. Ultimamente sto cercando di portare avanti le collaborazioni perché con il mese che ho fatto al mare sono rimasta un po' indietro, quindi sto cercando di finirle e oggi voglio parlare appunto con voi di questo libro che è distopico. Sto parlando di The Life is Gone di Samuel Beconcini. Allora, di cosa parla questo libro? Ovviamente essendo un libro distopico parlerà della Terra dopo qualche problema che c'è stato, in questo caso di guerre nucleari che appunto hanno distrutto completamente il mondo che noi conosciamo. Ci troviamo in un ospedale, iniziamo il libro in un ospedale, quando c'è uno dei protagonisti, diciamo non voglio spoilerare nulla come al solito, che si sveglia dopo parecchi anni di coma e lui si sveglia appunto in questo mondo completamente sotto sopra. Riuscirà poi a trovare altre persone che insieme formeranno appunto una squadra per cercare di continuare la loro vita in questo paese ormai, in questo pianeta ormai disastrato. Il problema è che comunque, lo sappiamo avendo visto ormai 1200 film distopici che parlano del mondo dopo qualche catastrofe, il problema è che si creano sempre delle fazioni e delle persone che vogliono assoggettare le altre per diventare più ricchi, per diventare più importanti, più pericolose. Anche questo capita nel nostro libro, quindi il nostro gruppo di protagonisti si coalizzeranno per cercare di sconfiggere il cattivo, diciamo, della storia e noi appunto da lettori, da spettatori ci troviamo appunto all'interno di queste guerre, di questi combattimenti. Allora, il libro mi è piaciuto molto. Inizio col dirvi questo perché è la parte diciamo fondamentale, mi è piaciuto o non mi è piaciuto? Sì, mi è piaciuto molto. L'unica cosa che ho riscontrato all'interno del libro è che ci sono veramente tante battaglie, tanti combattimenti che alla fine, essendo proprio tanti, in comunque un numero di pagine abbastanza limitato, io non parlo di un libro alto così, ovviamente parlo di un libro normale, quindi all'interno di questo libro forse il numero di combattimenti è risultato un po' troppo elevato, lasciando magari perdere alcuni aspetti che secondo me in un distopico sono altrettanto importanti, come ad esempio effettivamente la descrizione del paesaggio, la descrizione del perché è successo quello che è successo, non solo magari lanciandogli delle informazioni e non effettivamente dannogli un po' di succo della situazione. Questo è quello che è mancato un po' all'interno del libro, ma ripeto, la descrizione comunque delle battaglie, la descrizione dei protagonisti, quello c'è, avviene anche all'interno dei dialoghi, quindi comunque abbiamo una situazione chiara di quello che stanno vivendo i protagonisti. Secondo me manca un po' la descrizione di quello che c'è all'esterno. È comunque un libro che consiglio molto, effettivamente alla fine mi ha lasciato con un palmo di naso, infatti sono qua che dico no per forza deve andare avanti perché non può finire così e quindi quando uscirà il nuovo, se uscirà il nuovo, io sarò la prima persona a dire lo voglio leggere perché nell'insieme questo libro mi è piaciuto molto. Mi sono appassionata poi di libri distopici, vi avevo postato la recensione del racconto dell'ancella, anche quello distopico, poi ne avevo letti anche altri, quindi comunque il libro, il genere distopico sta diventando uno dei generi che predilisco. Predilisco, prediligo, ragazzi oggi non so parlare, ve lo giuro. Oggi sto andando per la tangente, prediligo. No, comunque a parte gli scherzi, questo libro merita tantissimo, ve lo faccio rivedere così rivedete la copertina, eccola qui, The Life is Gone di Samuel Beconcini. Io Samuel ti ringrazio tantissimo se stai vedendo questo video, mi raccomando di farmi sapere se ci sarà un seguito. Cos'altro ho da dirvi? Niente, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate il like di supporto, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram dove metto tutte le letture che sto facendo, qualche novità, qualche nuova uscita, la mia pila della vergogna che man mano si sta alzando sempre di più. Oggi ragazzi sono quasi due mesi che non compro libri, quindi ci vorrebbe un applauso perché è il periodo più lungo della mia vita. Comunque niente, adesso tralasciando tutto, mi raccomando se il video vi è piaciuto mettete mi piace, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!